Musica Ciao a tutti, siamo qua con una partita un po' diversa Oggi facciamo chi fa più falli di tutti Infatti metteremo a confronto la squadra femminile italiana Conto a quella italiana maschile In questo incontro faremo Italia-Spagna Femminile prima E Italia-Spagna maschile E fallacci Ricordiamo fallacci Nient'altro che fallacci Partiamo, passiamo già subito perché vogliamo fare falli Dai Uh, bel fallaccio Dai Dai Sono giallo, ma chi sei? Sei un arbitro di merda Sono giallo mi hai dato Dopo 5 minuti un giallo È un po' maluccio Dai Dai, ok Pu No, dai, l'ho preso No, ho preso palla What the fuck Mi cerca di prendere la palla Cioè, il piede è un riesce neanche Dai, entrategli 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 Puh, dai 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 Rosso, dai Me lo merito Rosso diretto Dai Dai Giallo, ma Comprata Arbitro pagato Non c'è più rispetto Cioè Io volevo il minimo rosso Dai Dai Uh, rosso, dai Rosso Me lo merito tutto Sì, rosso E fuori Magnieri E hanno i minieri Grazie a Raffaella E ci ha ricaduto la prima emozione Il primo rosso La prima grande emozione Puttato pure una robicciata Dai Ma come? No Che schioppi, dai Mi sono zile, ancora Sono un giallo Un rosso Ok, dai Ultimo Finiamo la partita bene Puh No Madonna Un rigore almeno Dai Dai No Volevo andare Da rosca Non fa Dai Ok Sono un rosso Beh, adesso Adesso ci impegniamo un po' Ed è rosso Magna Dai 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 Uh Dai Rosso Rosso Sì, dai E un altro spulso Siamo a due Vediamo Vediamo Oh 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 Sta di merito Prendere un rigore Mini C'è niente Non pensavo Non pensavo mai che potrei Fare le skill magiche Dai 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 Ok Ok Uh Dai Rosso Rosso Cartellino rosso Dai Ti ho visto De una baltracca Scopozzorella Ma Non rosso Come? Non è Pintosito Quei Bergogliano Vengono ancora Dai 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 Potrebbe essere ancora Ma se Siete scatti Come la fa Speriamo che con l'italiano Riusciamo a fare più rossi Perché Sono due rossi Puot 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 Mi ha dato neanche il rosso Adesso lo paro O da giugnalina giugno che cavolo si, non è un problema vorrei sapere che mi metto a fare go passo calcio inizio dai fuori un po' così tipo dai è andata malissimo ok guardiamo ok ok guardiamo pure tre cartellini gialli due cartellini rossi questa è le statistiche di quella dell'italia femminile vediamo quella dell'italia maschile ok siamo ritornati qua con l'italia e speriamo che facciano un pochino meglio perché i due rossi e i tre cartellini gialli sono un po' pochini sono un po' pochini ok la passiamo subito a lui e andiamo subito decisi dai uh subito un giallo subito decisi subito buono non è male uscirà già un cartellino giallo gli va bene uh dai candaeva potrebbe prendere il rosso uh partiamo col botto candaeva rosso dopo cinque minuti un rosso e un giallo maschile sta per stracciare manca solo più due gialli e e due gialli e un rosso e siamo l'italia uh dai dai deve battere uh bel fallo uh ok dai dai vabbè 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 non è un problema assolutamente non è un problema dai 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 oh oh dai un giallo subito bonus c giallo giallo secco prendi ok shall we corri ok dai 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 cattivi 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 che è il pirlo rosso grande pirlo un giallo un giallo tranquillissimo io un tempo ce la facciamo avrei credo che la nazionale italiana sia più forte nel nel pain dai rossi e giallo a fare falli soprattutto ok pirlo ci ho lasciato una buona prestazione di tutto dai oh dai 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 sì doppio giallo doppio giallo dai aspetta c'è uno spulso niente 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 un giallino che ci potrà stare per doppia munizione ma l'arbitro non si è sentita oh dai oh rosso e si fa in vantaggio subito in vantaggio un rosso fa espulsione due gialli quindi stiamo vincendo che palle ok cosa stiamo vincendo voor oh oh dai isherawi 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 c'è isherawi c'è un alto rosso quattorossi quattorossi attenzione l'italia vola e Peppe Bergomi siamo in europa siamo in europa e nel mondo dai 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 va bene va bene non c'è niente del gol dai ci hanno aiutato dobbiamo farlo per loro per chi ha cercato di prendere il rosso per chi l'ha preso no libera dai dai dobbiamo riuscirci questa volta ci siamo no dobbiamo cavolo vincere vai ok mi ha fatto prendere palla dai parola ok buonocci ok dai dai oh dai ultimo ultimo dai ma i miei senti dai 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 Potevamo fare l'impresa, non ce l'abbiamo fatta, comunque è veramente potentissima con la guardia, due gialli, quattro rossi, cioè, SPAC TOTALE e così che finisce il video, spero di riuscire a mettere tutte e due nel nostro video, ciao e alla prossima. Ciao